Allagamenti, fiumi esondati e incidente ferroviario. Torna così ad Arezzo l'esercitazione Prometheus, che da anni rappresenta un appuntamento fisso per testare il sistema di protezione civile del Comune di Arezzo, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio che operano nel settore. L'esercitazione si svolge di intesa con la Prefettura, coinvolti nella simulazione, le forze di polizia, il comando dei vigili del fuoco, l'emergenza urgenza, LFI e TFT, Domenica 22 ottobre, il contesto simulato sarà quello di emergenza meteo, generato da forti precipitazioni e conseguente esondazione di torrenti minori, tra cui il gavardello a nord della città, previsto l'allagamento dei binari della linea ferroviaria Arezzo-Prato-Vecchio-Sia. Il brusco arresto del treno in prossimità dell'area interessata provoca anche alcuni feriti, per i quali dovranno essere attivati i soccorsi con l'assistenza sanitaria e durante l'evacuazione dai vagoni, per gestire gli interventi saranno attivati il centro di coordinamento soccorsi in Prefettura e il centro operativo comunale. Durante il test, oltre alla gestione dell'emergenza ferroviaria, verranno verificate anche le procedure relative all'allerta meteo, alla vigilanza del reticolo idraulico, all'assistenza della popolazione, al coordinamento e alla cooperazione tra le varie sale operative con le associazioni di volontariato. Al termine dell'esercitazione è prevista infine una riunione di debriefing per analizzare le attività svolte, individuare le criticità e apportare misure migliorative alle procedure di emergenza.